E state riscontrando problemi riguardo su Crash of Duty, ovviamente scusate, Call of Duty, Black Ops, se sai che già stanno avendo problemi proprio al Crash, DirectX, tutte queste cose qua riguardano anche al Black Screen, schermo nero che non si avvia, si sente l'audio ma non c'è il video, non c'è niente, quindi è possibile risolvere il problema è mandato direttamente nella libreria del gioco Call of Duty, eccolo qua, vai direttamente su impostazioni, vai su gestisci, poi ai file locali, assicuriamoci che nella sua cartella non manchi nulla, anche se manca qualcosa puoi ripristinare così il gioco cancellando l'applicazione Call of Duty questa qua, chiudiamo un attimo qua e poi fai la verifica a gioco su gestisci, quindi su proprietà qua, file installati, verifica integrità dei file del gioco. Mentre sta facendo così la verifica dell'integrità dei file, ripristinando quell'applicazione e la cartella di Call of Duty, mettiamo anche questa cartella nelle esclusioni di Windows Defender, perché casomai la sicurezza di Windows può bloccare la cartella di Call of Duty. Entriamo così nello scudo qua sopra, protezione da virus e minacce, gestisci impostazioni, esclusione, aggiungi o rimuovi, esclusioni e facciamo sì. Come puoi vedere io qua ho aggiunto la cartella Call of Duty HQ, aggiungi un'esclusione, cartella e vai direttamente nella Steam Library, Steam Maps, Common, Call of Duty HQ e lo inserisci qua. Se riscontri problemi per colpa della sicurezza di Windows puoi rimuovere questo percorso. Mentre sta facendo così la verifica andiamo direttamente sulle pagine che ti ho lasciato in descrizione, aggiorniamo anche i driver per non avere problemi di crash. Web install e DirectX lo scarichiamo, ci clicchiamo sopra e lo installiamo. Io l'ho già installato un sacco di volte, accetta il contratto, facciamo avanti. Non installare questo Bing Toolbar, fai avanti e installi così DirectX per il supporto di DirectX 9, 10, 11 e anche se avete problemi all'audio sui giochi. Chiudiamo questa scheda, poi per quelli che hanno una scheda grafica AMD vi consiglio AMD Software Adrenaline Edition che ti permette di aggiornare i driver della tua scheda grafica AMD. Quindi scarica e installa questo pannello, non posso installarlo perché non lo supporto sul computer. Io supporto questo programma qua di Nvidia App per le schede grafiche Nvidia. Se vuoi installare un driver per la scheda grafica Nvidia separatamente, puoi semplicemente scrivere qua sopra Old Drivers Nvidia ed eccolo qua. Basta, tutto qua. Qua puoi scaricare manualmente un driver, scegli così il prodotto della tua scheda. Metto GeForce, metto la serie 30, metto la 30 e 70, Windows 11, lingua metto italiano e faccio FIND. Prova così il driver per la mia scheda. Driver GeForce Game Ready che l'hanno rilasciato il 22 di ottobre. 22 di ottobre. Scarichiamo e installiamo così questo driver. Io vado a scaricarlo e installarlo direttamente sul programma Nvidia App. Vado su Driver. Aggiorno così questa scheda per trovare i driver ed eccolo qua. 22 di ottobre. Scarico e installo l'ultimo driver. Come puoi vedere anche per il supporto di Call of Duty. Quindi se tu stai avviando il gioco senza aggiornare la scheda video, puoi avere questi problemi. Quindi ti lascio tutto in descrizione queste pagine. Ancora facendo la convalida in corso, vediamo un attimo la verifica dell'integrità. Stiamo sui 46-47%. Mentre sta facendo ancora la verifica, andiamo su Start, tasto destro su Start e vai su Gestione dispositivi. Schede video. La tua scheda video. Aggiorno a driver. Clicca nel computer. Scegliamo un elenco. Clicca il primo. Fai avanti. E installi così i driver. Ovviamente se il gioco continua a non partire, per esempio anche se clicchi qua sopra, avvia. E non si avvia per tipo 30 secondi e sta ancora su avvia il gioco, non funziona. Semplicemente puoi andare su Hotella qua, proprietà, foglia i file locali. Ogni volta che ho questi problemi, vado direttamente sull'applicazione di Call of Duty, quella là che hai visto prima, che ho cancellato. Tanto per farti un esempio, tasto destro sull'applicazione di Code, Mostra attropazioni, proprietà. Faccio su Compatibilità ed eccolo qua. Disabilitiamo ottimizzazioni Schermo Intero oppure eseguiamo questo programma come amministratore. Tu puoi mettere la sponda su questi due qua. Se non funziona lo stesso, puoi togliere queste spunte e fai applica. Se non dovesse bastare, io avvio il gioco in opzioni di avvio. Eccolo qua, DirectX 90. Abbiamo i Steam Command. Setting Game Launch Opzioni, questo qua. Vi ho lasciato in descrizione anche questa pagina. Come puoi vedere. DirectX Level 80. 81, 90, 95. Puoi avviarlo come vuoi. Ti consiglio anche di avviare Call of Duty in finestra. Quindi Windows, questo qua, lo metti in finestra. Avvio il gioco in finestra. Se non riscontri problemi di crash, puoi metterlo in fullscreen, quindi a schermo intero, nelle impostazioni del gioco. Sta facendo ancora la verifica dell'integrità dei file. Aspettiamo al 90%. Quindi, come ho detto, ti posso consigliare solamente di avviarlo in questa modalità, trattino, DX Level 90. Mentre qua risolviamo anche il problema del DirectX Error. Oppure il Game Shipping.exe. E problemi anche al crash durante le partite, per i caricamenti shader e tutte queste cose qua. Ok. Aspettiamo che scarichi anche il file che abbiamo eliminato. Andrà così a ripristinarlo. Una volta fatto, vado un attimo sul simbolo. Libreria. Poglio i file locali. Proviamo sull'applicazione di Call of Duty. Dava code. Eccolo qua. Tasso destro sopra, mostro attropazioni, proprietà. Filme digitali. Clicco sopra, installo così il certificato. Faccio sempre avanti e faccio fine. Una volta fatto non mi resta che avviare il gioco. Il gioco sta avviando. Fortunatamente è uscita anche questa schedina del Black Ops 6. Ed eccolo qua. Call of Duty si è avviato. Se in caso usi anche l'instant replay di questa qua, questa interfaccia qua, ti consiglio di rimuovere questo instant replay. Perché potrebbe anche avere problemi di crash durante lo schermo intero. Te lo consiglio. Quindi rimuove anche l'instant replay di Nvidia app. Facendo Alt più Z. Ed eccolo qua. Tutti i giochi. Tutti quelli che abbiamo scaricato e installato. Quindi dice gioca, scegli. E basta. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.